Marco Bona a portare la palla per Bello, Molama prova a Rubaglia, la Bona scarica per Guffano, che ha fatto per la chilla, questa palla lì, chiama time out per scuola di fuori, e gran palla di Bona, Bona scarica per Zanelli, prova a saltare Matteo Montano, bravo questa volta a non cadere nella punta, il finito da Chiarello, in angolo per Maggini, che fa saltare Giannilli, fa la sotto per Cortesi, che si appoggia al tabellone, trova altri due punti, 58-54, time out per la gara, la posta, si spaglia l'aggiuntivo, tre giochi a tre punti per la fortuna in questo carto qua, per tre secondi, Maggini, deve andare fino in fondo, si alza, prende un gran tiro, insegna un gran giro, per la scelta di Maggini, per canche può attaccare Giannilli, per canche da lontano, prende questo tiro, non entra, ribalto è di Bufanzi, con testa Giannilli, e quando si trova due punti, tempo, da Moverin, un palletto, dacca Mercante, scarico per Giannilli, bravo Mercante a toccare la palla e a consentare, a decognitare, due punti in contropiede, con la schiazzata, e l'esultato è sotto la curva e la dedica, e la prende bene il panadoppa, e Berga... Grazie per la visione!